Proficuo l'incontro che si è tenuto tra il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore Cristina Mirante con la regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall'assessore Barbara Zilli e dai suoi collaboratori per programmare gli interventi da effettuare in comune di Pordenone con i fondi europei del POR FESR 2021-2027. Da quando sono sindaco ho sempre cercato di intercettare ogni fondo possibile e immaginabile per migliorare la vivibilità della città. In questo caso, grazie ad una proficua e costante collaborazione con la regione e dell'assessore Zilli in particolare, il comune si aggiudicherà 5 milioni e 200 mila euro che permetteranno di risolvere alcuni problemi che affliggono da tempo la nostra città. Uno è la sistemazione dell'area esterna della stazione su un progetto di Cristina Mirante. È stato acquistato e verrà completamente riqualificato l'ex magazzino ferroviario che diventerà una velo stazione, cioè un posto in cui si potrà parcheggiare in modo custodito le biciclette, far piccola assistenza e trovare la ricarica per le biciclette elettriche e anche di poter depositare i propri bagagli o i propri effetti personali per chi arriva in bicicletta e poi prende il treno. Anche l'area esterna verrà completamente riqualificata aumentando il numero di pensiline per quanti invece parcheggeranno all'esterno le biciclette e implementando il bike sharing, quindi le biciclette che potranno essere noleggiate a pederata assistita o elettriche. Contemporaneamente nell'area del consorzio universitario abbiamo un consorzio universitario che funziona bene, che ha tanti iscritti, andremo a riqualificare quella che è attualmente alla palestra per creare nuove aule, perché aumentano gli iscritti c'è la possibilità di aumentare anche l'offerta formativa, quindi portare nuovi corsi per dare risposte ai nostri ragazzi e per creare le professionalità di cui hanno bisogno le nostre imprese. Verrà sistemata anche l'area esterna del consorzio, i nuovi percorsi, verranno aumentate le fermate, creando una tratta di andata e ritorno tra la stazione e l'università. E poi 700 mila euro verranno messi a disposizione per le imprese creative e culturali che svilupperanno progetti in collaborazione con l'università stessa. Quindi si tratta di un progetto importante che si aggiunge agli altri interventi che il Comune metterà a terra e che grazie a Dio non subiranno gli effetti dell'aumento prezzi perché sono stati studiati proprio in questo momento e quindi non avranno quelle impennate che purtroppo hanno subito gli altri progetti.